Vorrei tanto esservi d'aiuto signora mia ma ho paura che non ci sia nessuna legge contro le lettere minatorie Sono certa del contrario Il giorno che vorrò lezioni di polizia da una mamma casalina La signora ha ragione capo Sangue di uno scarrafone E' anche illegale infilarsi degli scoiattoli nei pantaloni per motivi di gioco d'azzar Poi lo aglio e beh basta no